A 11 settembre ho lavorato nel mio ofizio, c'è una torre nord, il flore è il 82ndo. L'esprudenza c'erano blu, c'erano bellissimi, l'esprudenza c'erano uno dei migliori che abbiamo avuto nel settembre. Abu Salam è arrivato dal Bangladesh nel 1985 per una rossa di studio politico. Si è laureato da iniziare a lavorare con un ingegnere in Mecca dieci anni dopo di diventato cittadino in America e nel New York è stato assunto dal dipartimento dell'esporto del comune dell'Unione dove si c'erano un segno. Quando sono arrivato al centro Voltaire era circa 6.45. Quindi sono la prima persona che normalmente viene all'office. Uno dei ragazzi, che era supposed a arrivare a 9 o'clock, il lavoro è 9 o'clock. L'esprudenza è arrivato dal giorno a 7 o'clock. E io mi sono sorpreso. E ho detto, perché è venuto così presto? E lui mi ha detto che ha avuto un meeting per fare a 9 o'clock. A circa 8.45, 46, suddenly c'era una grande scoccia in il bambino. Normalmente quando abbiamo il bambino, il bambino è rotato a 5 gradi. Ma il giorno aveva una grande explosione. e si sembrava che c'era una grande explosione. E proprio dal corno dei miei occhi, ho visto un obiettivo nero. E immediatamente c'era una explosione. La scoccia è stata riuscita. La scoccia è stata riuscita a vedere come succedere. e allora ho cominciato a camminare, perché non posso costruire le line e andare all'interno. Quando ero al 78th floor, ho cominciato a camminare la stagione. Quando ero al 72nd floor, un altro uomo ci ha detto che un'altra stagione, un'altra stagione, un'altra stagione, un'altra stagione. Questo era circa 9.55. A un'altra stagione di scopo, un'altra stagione spesa di una strata. Un'altra stagione di scopo, un'altra stagione. Di solito un'altra stagione, dove vanno a usare un'altra stagione. È stato dolore. Il strato è da circa 4fti enorme. Le due chiuderebbero è vissuto da scopo con l'altra stagione. È stato cominciato. e le persone stavano foste. Quindi tutti i luoghi che stavano, abbiamo aperto la porta, abbiamo aperto la macchina, e abbiamo avuto tutti i prodotti e distribuiti alle persone che stavano. Quando stavamo a 55 luoghi, i 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 luoghi. In questo momento, i luoghi, i luoghi, i luoghi, i luoghi, i luoghi, i luoghi. Quando ho visto, ho davvero molto triste, come posso aiutare? Ho dato un po' di luoghi, e stava andando. Non possiamo parlare, in questo momento. E' un po' di luoghi. che era venuto con il luoghi, che era blinde. Quindi, io ho tagliato con un uomo, e mi ha detto, che stavano con il luoghi, così, che stavano con il luoghi, e che stavano con il luoghi. Ma potremmo con il luoghi, e il luoghi, e che stavano con il luoghi, e che stavano con lui, a che stavano con lui. We are going down the temperature was getting heated. We are going down. Quando ero in un'altra parte, abbiamo visto che le persone di Fire Services stavano venire. Stavano portare più di 40 pound di peso di manegrazione con loro bambini. E' stato tremandoso. Stavamo subito. In questo momento stavamo subito. E' un'altra parte per noi. E queste persone stavano subito con 40 pound di instrumento dietro loro. E' un'imagina. Quindi, gradualmente, stavamo subito. Ci sono venuto. Ci sono venuto. sono venuto a partire. sono venuto a partire. Che è venuto a partire. Non c'è il bambino. Ed è un bambino. ma i fire brigati stavano all'interno, ma non so se si hanno avuto il helpo. Questa è un edificio di edificio, con un edificio di edificio di edificio. Quando si apriva il edificio, il edificio di edificio di edificio, il edificio di uscire. Molto di persone che hanno fatto questo, si apriva il edificio, perché l'impianto è diventato, perché la temperatura è cresciuta. La temperatura è cresciuta in più di nessuno di comforza. L'impianto è cresciuta in più di 100 milioni di polonaisi, quindi le persone iniziarono in più di comforza, e le persone iniziarono a scoprire il luogo. Ma loro non realizzarono che il momento che si apriva il luogo, si saranno scoperto. Quando si apriva il luogo, con la scuola, si sono scoperto, si sono scoperto. Si sono scoperto, si sono scoperto e si sono scoperto dal luogo, dal luogo, dal luogo, dal luogo. Quindi è l'unico che mi ha detto di non andare. E' uno chiamato sull'uomo e una moglie, che si è scegliato sull'uomo. Abbiamo visto un giorno sull'uomo e si è salto da portare. L'unico e un'unico che si è rimanendo e si è scoperto da portare a uno. Sì, quando ho visto che sono andati all the way to NEO's office, e poi c'era una tremenda stessa, una tremenda stessa, una stessa stessa. Non ho mai sentito questo tipo di stessa, è una stessa stessa. Quando ho guardato, ho visto che il cao che è colpito, è colpito. Lo stiamo costruendo, e si sembrava che sia colpito su un pozzo. C'è giusto, solo lì. È colpito così. Quando sono colpiti, il vizio è stato costruito a più risveggio, e si vanno al 100 km per varia. and I was just looking at this cloud it's a cloud is coming towards you and I said I will not let them catch me I just run I just run probably ten feet ten feet I just and I was engulfed whole dust it's a whole body was white I had a blue pants white shirt it's become white my head become white and my band become white everything's become white it is tender and I and I looked around I said everything is white and I realized that this is probably that this is probably the dust which we are engulfed it was covered with all the dust white dust then I the weather was beautiful it was blue sky like this mild wind it was a beautiful weather the moment that dust covered all over the area and you cannot see anything it is totally dusty you cannot see five feet ahead of it was so clouded so frosty I couldn't even run another another two three feet because I have to look around it there is a people around it was totally dark the moment it happens it looks like it is totally dark I cannot see two feet ahead of me that's how it began situation and then when I walked around a couple of blocks and I was started thinking I need to give a call to my hand in September 11 in the morning I usually watched news NBC so I I was watching news so when I saw TV I thought it's like it's a it's kind of shooting or something they are doing they are making film about that I didn't pay attention when they saw the life and the corner of the TV's life I said oh my god it's happening so I I was worried about and this is that the first time we moved in this house this is the first time in 2001 I don't know anyone in this neighborhood nobody I said oh my god well who am I ask what I'm gonna what is happening went all the way walking to the 14th Street and there is L train so I thought that that L train will take me to my place and they informed me at that time that L is not running so I was coming back again and when I came back it's around 10 10 30 the tower to my tower tower one collapse at that time again the same big sound and it collapse at that time when it collapse I feel sad because this is the building I really like this is the building probably everybody is the one of the best building at that time in whole world started and I feel proud that I was working there then what can I do I I was so worried and I was like alone in this house everybody in the school my son and my daughter in the school and I'm alone I said what can I do so I grabbed the holy book the Quran and in my chest and hold like this I said okay only you can solve the problem because I don't know anyone in this neighborhood I'm new in this in this nobody knows me so only you can solve my problem what's going on if you want him to come back please let him come back then gradually I took my car to to my house I bought that house just a year ago I bought that this is really funny just just 2000 March I bought that house the white car is in front of my I was standing over there I thought I'm I know what can happen who's gonna give me the bad news I was waiting for the bad news really when I saw the car is in front of us what's that what is that my car I I ran down down the stress I said you are alive are you alive he said yeah and whole body was covered with white stuff a pocket everything full with dust and everything he's like we said don't ask me anything I'm gonna go inside oh my god I was crying I said oh my god I'm I'm I really I'm bad because I I schooled you several times I was mad on you I will never mad on you in my life oh my god we have come back you came back I'm happy then but I was thinking is not him because how come a person can come back from that building so he was talking to his somewhere I don't know outside I said okay I was watching up from far and so is he the real person or ghost or whatever believe me in that day I was thinking that way too I thought he's not the real person came back so it was very hard it was very hard it is we consider we saw this one in different ways I was not very religious I never prayed that often and on after that I thought that somebody helped me on 78th floor I I was looking at my key I put my hand inside my pocket and try to see where is my key because that's the key I need to open the office when I'll be coming down next day when I look for the key I couldn't find that key then I realized I left that key down there inner mind was telling me go down you are not going up you better go down if you go up you'll be in trouble this is what my inner feelings was telling me so I when I saw that he is not there I started forgetting when I'm confirmed that I have to go down and I'm not going up there for that key Genovic if I went up there for that key probably I'll be one of the person because later on we found out that around 9 30 around 9 o'clock the whole building became smoky our office became totally smoky because three of our people were there the guy who was with me at seven o'clock he is supposed to come down at nine o'clock he is from Nigeria he came down at seven o'clock and he was the guy he started his wife started calling his office we later on found out from the tape it was a conversation that he was trying to tell his wife that it is very smoky it was around nine o'clock nine ten nine twenty at that time all building was smoky all 82nd floor was smoky he said he told his wife that he cannot see anything and he called 911 they told him to stay down there people are coming fire brigades are coming to rescue but he couldn't get the rescue he died and another one another two people one of them is Chinese American the other guy is American one of them is Chinese American the other guy is American he has a Nigerian is yes he has Muslim when we found out when I found out that was done by somebody of my faith I feel really guilty I felt that this is the country where we are here and we are giving our heart and soul for this country for the betterment of this country as a citizen it is our moral duty to support this country in any way possible and as I said before it is a landmark building in New York City I feel guilty that it's one of my faith was involved in this kind of problem where not only other religious people died but also a lot of Muslim people died there so in our faith we are for the human beings I cannot create any human I cannot destroy any human beings a soul so in some way I feel guilty that somehow somewhere somebody from my faith did this one and I feel guilty for that and I really feel feel that it was not the right thing nobody should have done those kind of stuff I never I don't scarred before September 11 I did after September 11 in that day I promised to Allah if he come back then I will go to Mecca and do the pilgrimage and when he came back the next year we went to went to Mecca to the pilgrimage and after that I start covering centinaia di musulmani sono morti a transito indiegati americani camerieri pakistani giovani dirigenti ma non è bastato salvare la grande comunità di 10 milioni negli Stati Uniti dall'ondata di diffidenze sospetti il corano che diventa lo strumento del diavolo da bruciare pubblicamente come tenta di fare il grado di Harry in Florida o da esorcizzare come fa in una preghiera collettiva il governatore repubblicano del Texas Rick Perry uno che aspira a diventare presidente degli Stati Uniti e quando un immobiliarista Sharif El Gamal acquista un palazzo poco lontano da Ground Zero per costruire un centro islamico destinato non solo ad essere un luogo di preghiera ma anche una piattaforma per inviare all'interno del Giorgio di San Francisco e un cristiano e l'arrivo di Europa si sta tenendo i pichetti iniziano a stazionare nella zona chiedendo che la memoria dei morti dell'Equatoria non venne risulta costruendo un tempo dedicato a un assassino in un'assemblea piena di odio e incomprensione che fa capire come le ferite dell'11 settembre non si siano mai chiuse per nessuno Così la mia famiglia muore ogni giorno dice disperata Dana Davos voglio un posto per pregarmi e far conoscere il vero islam L'islam di Naimatu, la figlia di Abdus e Durre I was actually in favor of that cultural center because it's not strictly a place of worship it's just a place where everyone can come and understand about the religion and understand that the terrorists they're not a true representation of what Islam is and I think that it would have been a great, great thing but there was just so much backlash people wanted to understand what Islam was and people were asking questions like what is this religion, what were they dying for, these terrorists what is it about and there was a lot of understanding but there's still, it's just come to a point and it didn't go any further than that As a Muslim, it's secondary because my first duty is for this country it says in Quran that wherever you are follow the rules for that country we're being victimized for something that other people did and that, it still hurts and when I think about it I don't blame our government I'd rather that we be safe than have this happen again so I would rather go through this over and over again than ever have something like that happen because it's unbearable and it just annoys me that another Muslim person did this and put us all through this now and you know we always felt if there is another news came out that somebody was terrorizing or I'm always praying that hopefully it is not a Muslim guy and when I found out that it has been done by a Muslim I feel again sad my moral is going down and I feel like you let us down again your act, whatever you are doing you let us, the people who are here in this country you are letting those Muslim people down because we have a family and we want to see that my children, my grandchildren they will succeed and when they will see that they have a Muslim name it will be really difficult to get a job anywhere in city, state or federal government so that will be another profile which will take place if these things continue so I'm worried about that portion because I'm worried about her when she will be married her granddaughter, my granddaughter, grandson and what they will be doing I will be worried for those in future